e c'è subito dopo i due lanci quello qua scopi da nazzo eccolo lì figaro guardalo lì che bestia bene ora bisogna tirarlo fuori attenzione banana le prese con un cavedano enorme dov'è che hai lanciato il bagno? ti giuro il lancio l'ho lanciato subito ho fatto due giri minchia che toro minchia che bestia eccolo qua ragazzi amici del team pegs banana colpisce ancora un lancio di sotto riva quadriamo il post numero due giri di mulinello ragazzi sarà un chilo abbondante che sarà? attenzione nooo professional fermo così che lo agganci da qua guarda quant'è? un chilo e due circa più o meno si buono bella cattura comunque bel bestiole artificiale usato? un martin semplicissimo erano usciti a luci in realtà però abbiamo preso questo meglio che niente adesso è in rack un bel bestiole tornare alle foto qua com'è che si fa? ovviamente kitchen release salutiamo il nostro amicone un boccone da pompinare che c'ha il cavino commenti poi si possono cancellare bello sguiccione laker scolpisce ancora dopo due lanci qui sotto riva col jig fabio c'è ecco cosa ho preso cavi da natto poi mi sa che puoi tirarlo su anche di pesa oltre dice un po' più in su la tassona piazza un bestia come quello di zoro figa una carpa ragazzi una carriera la carriera che è una ruggia che da una ruggia che è? che è una ruggia stai stai Ecco qui l'amministratore è Ruggero Letizzi. Stavo facendo scivolone e oggi sono venuti di scivolone a fare quattro lancia spinning pensando di non prendere un cazzo ma invece Fabio ha tatturato il testone ovvero un cavedano e io questo qua adesso faccio il cavedanazzo, ora peseremo ovviamente peseremo? Si questo è un chile mezza, cioè c'è la pesa per dove ce l'ha? ha proprio incogliato stile cattivissimo adesso per slamarlo sarà un po' in presa faccio vedere com'è Fabiato? è un bel testone cercavi danazzo dai non ci possiamo lamentare no non we no 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 Grazie a tutti.